il ritorno di david guetta in live streaming torna united at home protagonista ovviamente david guetta il suo live streaming tra gli eventi più importanti al mondo di questo 2020 2021 ritorna sabato 6 febbraio andiamo a vedere tutti i dettagli e soprattutto da dove amici ma soprattutto amiche di ss4dj sono claude e andiamo a parlare anzi torniamo a parlare di david guetta e questo evento che è stato l'evento principale in live streaming per quel che riguarda la pandemia covid 19 stiamo parlando del united at home che arriva al quarto capitolo questo live streaming stavolta farà tappa negli emirati arabi uniti quindi nello specifico dubai per un altro evento di beneficenza united at home dubai edition direttamente dall'heliport del burgi al arab giumeira questo quarto appuntamento prevede l'esibizione del leggendario artista parigino top 1 nel 100 dei dj in cima ad uno degli hotel più lussuosi di tutto il mondo il burgi al arab giumeira di dubai quest'evento si terrà a breve quindi 6 febbraio 2021 a partire dalle 15 ore italiana in diretta streaming il tutto potrà essere visto gratuitamente tramite le piattaformi social ufficiali di david guetta quindi facebook twitter e anche dal canale youtube di david guetta dove ci colleghiamo adesso ecco qua lo vedete sul canale già ce ne sono 91 in attesa programmato per il giorno 6 febbraio 2021 notare il numero di iscritti di david guetta la farà brividire qualsiasi youtuber 22,6 milioni qua c'è il link importantissimo per donare live quindi united at home fundraising live stream from dubai david guetta sabato 6 febbraio 2021 dal bulge al arab giumeira fino ad oggi le passate esibizioni di united at home a miami new york city e le louvre di parigi sono state viste da cifre enormi di spettatori si parla di 75 milioni di persone in tutto il mondo cifre assurde e hanno raccolto più di 1,6 milioni di dollari che alla fine è la cosa più importante in questo periodo c'è in giro un taser soprattutto riguardante questo evento che noi adesso lo vediamo a pezzettini ecco qua questo è il bulge al arab lui che si prepara tutto lo staff che sta preparando l'evento e questo è l'eliporto fantastico di bulge al arab dove lui ricreerà lui e tutto il suo staff ricreeranno una gigantesca console dando vita ad uno spettacolo ovviamente virtuale che tutti gli utenti e i fan potranno vedere online sabato 6 febbraio vedendo il teaser dell'evento veramente ben fatto e con uno sfondo che dire da brividi come sempre come abbiamo già documentato il live streaming di beneficenza allo scopo di sostenere unicef for every child lo vedete qua in sotto negli sponsor e questa volta anche la campagna di dubai cares e gli education uninterrupted per sostenere l'istruzione a distanza per i bambini gli studenti e i loro insegnanti disagiati dalla pandemia covid 19 parlando dell'evento david ghett ha dichiarato dopo miami new york e louvre di parigi sono molto orgoglioso di annunciare che stiamo salendo e in effetti qua sta salendo lo vedete sulla foto sulla cima dell'iconico burgi al arab giumeira per un altro spettacolo united at home questa volta in una città che è cara al mio cuore dubai e non solo al tuo finora abbiamo raccolto più di 1,6 milioni di dollari grazie a tutti coloro che hanno partecipato in tutto il mondo in questi tempi difficili speriamo di poter dare conforto gioia e sostegno attraverso il potere della musica e delle emozioni abbiamo sostenuto molti enti di beneficenza e contribuito a fare la differenza nella vita delle persone durante la pandemia oggi continuiamo in questa direzione a favore di unicef e dubai cares l'intero evento sarà disponibile gratuitamente su tutti i canali ufficiali social di davighetta e sul canale youtube che vi abbiamo fatto vedere in anteprima metteremo sia il link del canale youtube sia il link per donare che è la cosa più importante su nelle mie informazioni nelle informazioni di questo video così potrete avere accesso diretto da lì mi raccomando importantissimo donare e partecipare che dire a sto punto al di là di tutto questo mino qui sta facendo le cose fatte per bene che possa piacere o non piacere lo ripeto sempre quando si tratta di beneficenza in un periodo come ora dove nessuno può suonare e questo invece sfrutta la sua popolarità il suo prestigio la sua potenza per metterla a disposizione a scopo benefico questo è veramente da applausi poi che la musica di getta ti piaccia ti faccia schifo questo è un altro discorso quindi non stiamo tanto a guardare in questo caso chi sta suonando poi chiaramente lo puoi vedere come non vedere donare come non donare però possiamo dire che è uno dei pochi artisti dello spettacolo che sta prestando la sua immagine grandissima in questo momento per aiutare gli altri e questo gliene fa solo onore al di là del fatto che sia il numero 1 il numero 2 il numero 100 per voi quindi applausi a david getta e a tutte queste iniziative e a tutti gli scopi benefici di questo periodo ben vengano sia per aiutare i bambini sia per aiutare tutto il settore che ne avrebbe veramente bisogno da dubai è tutto andiamo a parlare dei corsi per dj parliamo dei corsi per dj corsidjproducer.com dove potrete fare tutte le lezioni private consulenze sui vostri hardware e software e corsi veri e propri per dj e produzione musicale contattandomi nella sezione contact riempiendo il form qua sul sito oppure ancora più facilmente nella pagina facebook che trovate all'interno di ogni video di os for dj nelle informazioni trovate la pagina facebook contattatemi lì in privato non per dirmi le vostre robe ma solo se avete intenzione di fare corsi o lezioni per tutto il resto potete scrivere nei commenti del video se qualcosa non vi va vedrete che qualcuno della community o io stesso cercheremo di darvi una mano nel limite del possibile oltre alla pagina facebook potete trovare la pagina instagram e la pagina telegram contenuti extra spoiler la nostra community è gratis se vuoi poi farne parte il canale youtube molto molto importante per noi la vostra iscrizione così riusciremo a crescere saremo motivati a mettervi sempre informazioni spoiler novità tutorial di tutta la tecnologia e di tutti i programmi che vi piacciono attiva la campanella per essere avvisato su tutte le novità in anteprima condividi e metti un like se ti è piaciuto questo video tramite social ai tuoi colleghi o ai tuoi amici inoltre puoi sostenerci tramite il tasto paypal sostieni so s4dj donandoci se pensi che tutto questo lavoro a gratis che viene fatto per te ti sia di aiuto e stai imparando qualcosa anche grazie a noi quindi un caffè una spremuta d'arance una ferrari una casa in centro o tutto quello che vuoi anche una pizza va bene tramite il tasto paypal e bravo david ghettà che si presta a tutte queste iniziative questa è la quarta e speriamo che vada avanti raccogliendo sempre più fondi per le situazioni disagiate al mondo diffondendo la sua musica diffondendo la positività la voglia di ballare anche da casa con questo progetto unite a dubai edition bene quindi l'appuntamento è per sabato 6 alle ore 15 sul canale youtube ci sarò anch'io a commentare in mezzo a tutti quelli del mondo perché chi se lo perde questo evento non so se giocherà la mia squadra del cuore ma al massimo terrò due computer aperti quindi uno su david ghetta è ovviamente uno sulla mia squadra che gioca sabato alle due se non mi sbaglio bene ma detto questo che non c'entra niente vi ringrazio dell'ascolto vi auguro una buona giornata ci si vede lì l'iscrizione al canale importantissima e ricordatevi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio no 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 Di, 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 miau.